Amici Noi Bianco Celesti ben ritrovati e come sempre il giorno dopo la partita arriva il mio video di analisi ma prima di parlare di questo Lazio Nizza vi voglio ricordare di iscrivervi al canale di Noi Bianco Celesti di mettere mi piace a questo video, commentarlo e poi sono attivi gli abbonamenti ecco mi raccomando abbonatevi i 2 euro per sostenere il progetto di Noi Bianco Celesti Lazio Nizza 4 a 1 una partita che non era semplice alla vigilia perché c'era tanta attenzione su quelli che potevano essere i gambi di Barone che ha nuovamente effettuato un turnover massiccio che però poi alla fine si è rivelata un trionfo sia in campo per quanto riguarda la prestazione ne sia poi per quanto riguarda il punteggio c'è da dire che poi alla fine i cambi, quello che a me è piaciuto è il fatto che tanti cambiamenti non hanno portato a un cambiamento di strategia è un cambiamento di atteggiamento in campo perché la Lazio è partita subito forte a cannone, ha creato subito due opportunità ha preso due traverse, c'è stato un salvataggio sulla linea e poi c'è voluta una magia di Pedro per aprire, per stappare la partita quel tiro di sinistro sotto la traversa, un tiro a giro fortissimo su un pallone vagante ci ha fatto tornare indietro con la macchina nel tempo quando era un giocatore del Barcellona a me è sembrato di rivedere un'azione del Pedro dei bei tempi e la Lazio ha giocato una buona parte di primo tempo, i primi 20 minuti fino al gol dopo il gol c'è stata un po' di sofferenza, il Nizza ha creato qualche situazione, qualche opportunità niente di eclatante, ma il pallino del gioco era in mano un po' alla squadra di Aise quello che poi accade è che nella prima opportunità utile per andare a fare il 2-0 la Lazio è cinica, cosa che non era stata nelle altre occasioni, ecco io mi ricordo a Torino dove sul 2-0 ci mangiamo il gol del 3-0 che poteva chiudere la partita e poi ci siamo portati tutto il pathos negli ultimi minuti a Firenze e quant'altro andiamo, prima opportunità, palla di Pedro per Casteggianos, pasticcio del difensore del Nizza e poi il bel gol di Casteggianos che segna il primo gol in Europa con la Lazio e festeggia anche il compleanno sul 2-0 è arrivato forse il momento un po' più complicato perché era nell'aria il fatto che la Lazio avesse perso un po' le distanze a centrocampo, non riuscivamo ad accorciare sui loro centrocampisti non riuscivamo ad arginare la loro manovra che si sfruttava in ampiezza da destra verso sinistra e poi c'è stata un'azione questa qui di Boga che ha trovato un buco centrale, si è infilato, ha fatto un triangolo e ha segnato il gol del 2-1. Ecco per fortuna lì in quel momento è finito il primo tempo perché chi era allo stadio ma credo anche in televisione si era visto che l'andazzo non era dei più positivi perché la squadra come ho detto non era compatta e poi è arrivata la mossa di Baroni che ha riequilibrato il tutto e poi ha decisamente stravolto la partita perché la Lazio poi entrando nel secondo tempo con i due campi dentro Zaccagni, dentro Rovella e fuori Chionai e Dele Baciru si è messa 4-3-3 e in una ventina di minuti ha segnato due gol ecco il primo bellissimo con Castellanos, nuovamente una bella verticalizzazione di Rovella il doppio dribbling e poi il tiro sotto l'incrocio e poi ancora l'invenzione di Rovella per Castellanos il calcio di rigore e la trasformazione di Zaccagni. C'è da dire che nel secondo tempo si è giocato poco a calcio perché il terreno di gioco era impraticabile, però la squadra è rimasta attenta, è rimasta compatta, concentrata e poi ha portato a casa questo risultato importante anche nelle proporzioni ecco perché lo voglio ricordare, è importante anche la differenza redi quest'anno nella nuova Europa League perché nel nuovo formato se arrivi a pari punti ecco la differenza redi è il primo criterio che verrà visto quindi segnare tanti gol e avere un divario di tanti gol, questa partita è tre la scorsa, è fondamentale perché poi ti permette di essere più propenso magari ad arrivare, ad entrare tra le prime otto ecco perché poi dicevamo prima dell'inizio di questa manifestazione la Lazio compie il suo se entra tra le prime, ovviamente playoff io ti dico tra le prime sedici compie il suo se fa le prime sedici, se arriva tra le prime otto dà un bel segnale ecco diventa, ha fatto un percorso positivo, molto positivo se entra tra le prime otto adesso ovviamente siamo primi ma siamo a due giornate, ne mancano altre sei quindi il percorso è ancora lontano, ma rimaniamo sull'azionizza il finale di partita ecco non si può giudicare perché non si è giocato a calcio pozzanghere ovunque, pallone che si fermava e quindi ecco non possiamo parlare nemmeno della gara dal punto di vista tattico ma solo dalla gestione e dell'atteggiamento che mi è sembrato positivo. Ovviamente quello che mi è piaciuto, già l'ho detto, è il fatto che questa squadra ha mantenuto la stessa mentalità, lo stesso modo di giocare pur cambiando gli uomini andando sui singoli ecco facciamo dei discorsi per quello che abbiamo visto soprattutto nel primo tempo, nei primi 60 minuti diciamo quando si poteva giocare a calcio ecco possiamo dire passi in avanti secondo me per quanto riguarda le partite dei due terzini che interpretano il ruolo in maniera diversa rispetto a Lazzari e Tavares perché Marosic e Pellegrini sono più bloccati, hanno caratteristiche offensive decisamente minori rispetto agli altri però ecco hanno dato compattezza al reparto che è vero che la Lazio ha subito dal ventesimo in poi del primo tempo fino alla fine del primo tempo però ecco ha subito pochi di rimporta ha subito pochi incursioni, c'è stato ecco un predominio del Nizza a un certo punto che però non portava a delle occasioni da gol, portava soltanto a delle situazioni che poi la Lazio riusciva a gestire negli ultimi 16 metri e c'è da dire che il lavoro soprattutto di Marosic è stato secondo me un gran lavoro perché di fronte a lui aveva Chauna che più e più volte si è perso Luchet che poi alla fine ecco a volte tu come terzino riesci anche a essere in difficoltà se il tuo compagno di reparto quello che di fronte a te non difende ecco lui è stato bravo a gestire diverse situazioni e se andiamo a vedere il gol il gol poi nasce da una zona centrale, da un buco centrale per quanto riguarda ecco i due terzini passi in avanti non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda Chauna nuova partita interlocutoria secondo me non è il suo ruolo, ecco in questo schema lui secondo me c'è difficoltà sia a difendere il terzino perché poi lui prende la munizione di Luchet dopo pochi minuti e poi però non riesce a sfruttare questo vantaggio che ha nel cartellino giallo che magari poteva indurre il terzino essere un po' più guardingo, un po' più attento, ecco meno offensivo e invece da quella parte più più volte hanno messo pallone in mezzo in maniera peligrosa poco quando ha avuto la palla tra i piedi e soprattutto nel gioco associativo ma secondo me ecco il problema è proprio tattico non è tecnico perché in quel ruolo lui fatica a trovare la posizione fatica a trovare le giocate che possono innescarlo perché lui dovrebbe giocare magari una decina di metri spostato verso più il centro o è magari una decina di metri spostato più in avanti il modulo in questo momento non lo prevede e quindi lui deve giocare molto largo per allargare le maglie della difesa e difficilmente riesce a trovare quello spazio per fare quella giocata che lui sa fare e tirare in porta quindi ancora non è entrato ci vuole tempo, il giocatore è giovane però ecco bisogna capire che vive una realtà diversa da quella dove è stato preso anche Dele Basciro un piccolo passo indietro rispetto a quello fatto vedere contro la Dinamo Kiev la mancanza di compattezza nella zona centrale nel primo tempo non dico che in gran parte ma è anche colpa sua perché usciva con le pressioni un po' troppo irruento lasciava quegli spazi in mezzo poi forse la cosa che lui sbaglia magari è indirizzare anche il pressing perché quando tu pressi poi devi indirizzare il pallone da un lato o dall'altro lui secondo me lì è ancora un po' carente perché non riesce a interpretare bene le varie situazioni e quindi più e più volte il Nizio è uscito palla al piede e poi ci ha bucato in quella zona centrale dove ecco lui, Vesino e Ghendusino si sono mossi bene però poi alla fine abbiamo capito che tra il primo e il secondo tempo appena abbiamo tolto delle Bashiru e messo Rovella e abbiamo anche cambiato schema c'è da dire perché poi il cambio di schema è fondamentale la Lazio si è reequilibrata e l'Inza non si è promosso quindi da quel punto di vista vi posso dire ecco che un piccolo passo indietro perché poi lui anche quando ha poco spazio non riesce a gestirlo però è un giocatore interessante che ha questa capacità questa forza fisica e questa caratteristica di andare negli spazi che può essere utile e utilissima in alcune circostanze queste sono le due note uniche, note non dico negative però interlocutorie, non negative, interlocutorie dove dobbiamo mettere dei punti di domanda perché sono dei giocatori che ancora devono essere inseriti al 100% note positive, io ovviamente Castecciano a Seppetro adoro i tre gol, soprattutto la fattura dei tre gol grandissima fattura però io mi voglio soffermare su due giocatori mi voglio soffermare su secondo me quello che è stato e che in questo momento è un giocatore fondamentale per la Lazio che è Gendusi perché il lavoro che fa Gendusi senza palla forse dalla televisione non si vede ma è un lavoro decisivo affinché la Lazio possa ecco competere con tutte le squadre e avere questo atteggiamento molto offensivo perché lui va a tappare ogni tipo di situazione ogni tipo di buco corre tantissimo ma soprattutto quando corre ecco riesce ad essere aggressivo e a far perdere quel tempo di gioco agli avversari che permette alla squadra di ricompattarsi nel momento in cui c'è la difficoltà nel momento in cui ci sono le ripartenze ecco lui ha quell'aggressività quell'intensità tale che ti scappa un uomo lui fa la corsa e lo riesce a rallentare così che la squadra riesce a ritornare a riposizionarsi e poi si sta assumendo anche delle responsabilità nella costruzione del gioco che in passato non faceva è che sinceramente in questo momento stanno dando i frutti perché poi alla fine se la Lazio gioca questo calcio verticale questo calcio veloce quando riconquista la palla e va dritta in porta e poi quando a volte invece deve gestire il pallone come a Torino oppure come a Firenze in cui abbiamo avuto per larghi tratti il pallino del gioco in mano ecco lui lo sta facendo e sta crescendo in maniera decisamente notevole e per me ecco in questo momento è lui l'uomo fondamentale di questa squadra l'altro uomo è Rovella perché l'avevamo un po' criticato nelle ultime uscite aveva giocato sempre in maniera un po' troppo scolastica e abbiamo visto che quando lui verticalizza ce l'ha a questi passaggi ieri due verticalizzazioni la prima ma soprattutto la seconda la seconda bellissima con il pallone che passa dietro due difensori e trova Casteccianos con l'incrocio perfetto il portiere che è tagliato fuori fa fallo ecco questo è Rovella che vogliamo questo è Rovella che si deve assumere responsabilità alcune volte di andare in verticale anche quando non ci sono spazi perché poi questa Lazio ci ha fatto capire che è una Lazio che può andare sui secondi palloni che può essere una squadra forte anche dal punto di vista fisico anche se le caratteristiche di Rovella non sono quelle però può essere intensa ecco con il crescere della condizione con l'arrivare al regime queste verticalizzazioni sono necessarie poi per andare dritti sul punto e andare dritti a rete ecco soprattutto ecco la partita contro la Fiorentina ecco penso sono mancate quelle verticalizzazioni perché poi il gioco ristagnava un po' troppo sugli esterni quando a volte non si trova spazio sugli esterni bisogna ragazzi bisogna andare in verticale per mettere in difficoltà la difesa che poi magari fa un errore sbaglio oppure ti riesce la giocata come ieri due passaggi perfetti in verticale e due gol ecco è importante alternare le due fasi e finalmente sono contento che Rovella abbia inserito anche la fase della verticalizzazione che aveva fatto poco nelle scorse nelle scorse partite passiamo infine ecco perché come ho detto andare a decantare la partita di Castelciano se Petro secondo me è pure abbastanza ininfluente perché hanno fatto una partita strepitosa e Petro con le assist Castelciano due gol e rigore procurato credo che c'è poco da dire anche perché poi abbiamo visto che gol quello che però secondo me poi dobbiamo andare a centrare il punto che mi è piaciuto è stato Baroni perché perché se è vero che la squadra ha cambiato tanto e ha mantenuto l'identità poi c'era stato quel momento di difficoltà e lì bisognava fare qualcosa ecco bravo a capire che bisogna dare fiducia a questi ragazzi lo diamo in Europa League va bene la squadra parte parte bene segna un gol meriterebbe forse di segnarne due poi va in sofferenza nel momento della sofferenza riesce a trovare il 2-0 ma non è ancora così matura ecco lì perché forse lì manca un po' di maturità da portare il 2-0 nel primo tempo subiamo il gol del 2-1 e lì lui capisce che bisogna mettere mano non solo agli uomini ma anche all'assetto tattico e lì lui si mette 4-3 inserisce un altro palleggiatore in mezzo a campo infoltisce le maglie toglie a Bougat che era l'uomo che ci stava mettendo in maggiore difficoltà quello spazio per ragionare e piazza subito due gol all'inizio del secondo tempo ecco lì abbiamo vinto la partita grazie anche alle mosse di Baroni che ha capito che bisognava cambiare come l'aveva capito ecco secondo me forse un po' troppo tardi a Torino Torino forse lo poteva fare prima del gol del 2-1 però poi l'ha fatto dopo il 2-1 ed è stato anche lì decisivo per portare a casa il risultato perché ragazzi a chi era a Torino a un certo punto ha capito che la squadra si era un po' slegata quando lui si è messo 4-3 che fa entrare Vesina abbiamo vinto la partita definitivamente quindi bene così adesso l'ultimo step che sarà uno step importantissimo contro l'Empoli perché va a completare questo ciclo prima della sosta questa è una partita fondamentale perché uno ti permetterebbe di andare alla sosta in maniera tranquilla e di far lavorare la squadra in maniera serena due perché ti lancerebbe alla grandissima in classifica visto anche le partite che ci saranno e gli altri scontri e tre perché è una dimostrazione di maturità una dimostrazione di continuità e poi e poi anche il fatto che la gestione di queste forze è stata fatta bene perché viene al termine di un ciclo in cui abbiamo giocato tantissimo negli ultimi tre settimane quasi ogni tre giorni e quindi soprattutto negli ultimi due settimane abbiamo fatto tre partite a settimana quest'ultima partita è fondamentale perché bisogna portarla a casa perché con l'Empoli innanzitutto in casa bisogna vincere però ecco è fondamentale per la crescita della squadra per quella che è la mentalità per quella che è la continuità che non deve mancare in un percorso e quindi ci può dire molto questa partita con l'Empoli che io temo tantissimo perché ieri la squadra ha speso tanto ieri i ragazzi hanno speso tanto su un campo che poi alla fine era impraticabile però queste scorie si faranno sentire e quindi ecco domenica sarà una partita complicata l'Empoli si metterà lì a fare la sua partita quella di non farti comunque cercare di non farti giocare e ripartire cercherà di spezzare il gioco e lì ci servirà la squadra l'allenatore i giocatori i campi ed anche il pubblico servirà proprio essere tutti 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 presenti perché è una partita fondamentale io concludo ho concluso mi sono un po' diluncato ma la partita lo richiedeva visto il risultato vista la bella prestazione vi ricordo di iscrivervi al canale di No Bianco Celesti vi ricordo di commentare mettere like al video e poi sono attivi gli abbonamenti quindi mi raccomando abbonatevi due euro al mese e sostenete No Bianco Celesti oggi è un giorno bello perché la Lazio ieri sera ha vinto c'è da dire che pure la Roma ha perso quindi una serata fantastica e io vi lascio con il mio Forza Lazio e io vi lascio